Ingegner Camillo Odio, alla luce dell'attacco hacker al sistema informatico della sanità della regione Lazio, in Abruzzo sono stati rinforzati i controlli e soprattutto se il sistema è un sistema sufficientemente sicuro? Sì, l'episodio ha attivato l'attenzione di tutte le regioni sul tema, ci siamo mossi in coordinamento con l'assessorato e con la struttura commissariale. Come sapete la regione Abruzzo ha adottato fin dall'inizio un sistema nazionale, il sistema centrale di poste e fin dalle prime battute ci siamo concentrati su quelli che erano i temi della sicurezza e della stabilità, in maniera tale da garantire a tutti i pazienti e i cittadini un accesso non solo sicuro, immediato e semplificato alle prenotazioni e quindi alla garanzia di conservazione e gestione di queste informazioni. La regione Abruzzo dall'inizio ha puntato su queste tematiche e nell'ultimo periodo ovviamente sentite le notizie delle regioni di Limitrofe, ha fatto degli accertamenti che si sono rivelati positivamente sicuri e confermando quindi la bontà della scelta effettuata all'inizio. Ingegnere, perché questi dati sensibili fanno gola? Tutti i dati sensibili possono essere oggetto di riscatto perché impedire l'esercizio pubblico dei diritti e dell'accesso alla salute è di per sé una limitazione importante e quindi la pubblica amministrazione si ritroverebbe poi a dover assecondare determinate richieste, questo in primo luogo. In secondo luogo si può pensare che le informazioni di questo tipo possono essere utilizzate per analisi e studi che esulano da questioni di pubblica utilità e di sanità pubblica. In passato, che le sappia, ci sono stati degli attacchi informatici nella nostra regione, il sistema sanitario o altri sistemi? Non possiamo escluderlo e evidentemente ci sono dei meccanismi di tracciabilità e di monitoraggio che hanno poi determinato l'intervento della Polizia Postale. Possiamo certamente dire che se ci sono stati danni non sono stati caratterizzati da situazioni drammatiche o di impedimento dell'iniziativa e dell'esercizio della pubblica amministrazione. Grazie. Grazie.